ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo duello in remote duel perché settimana prossima c'è l'extravaganza e quindi dobbiamo testare un po' questa modalità per la prima volta oggi voglio testare il diciamo il mazzo nuovo ovviamente penso che tanto lo vedrete in duello e sta pure scritto nel titolo mi sono montato via e niente dai tommy pronto io sono nato pronto sì te cosa fai partecipi all'extravaganza mi fai compagnia penso che non parteciperò ma come tutti gli altri extravaganza lo lo seguirò sicuramente bravo mi piace e fa il tipo per me finché mi sbattono fuori alla prima partita puoi smettere di guardare e perché questo meta è questo meta in realtà molto bello secondo me ci sono un sacco di mazzi diversi che non sono oppressivi sono divertenti e abbastanza interattivi sia da giocarci contro che da giocare ci sta secondo me è un bel meta e se si potesse giocare in real sarebbe meglio però ovviamente un altro mese forse andiamo in fumetteria dai speriamo dai poi ci inizia gli esami e io sono sempre sotto esame ostia dai su ti rossolano ok a metà come taglio ah ti vediamo prima sì dai 5 io ho fatto 4 bene perfetto partiamo di un bene come taglio a metà dai io e anche tua metà e parto io si va allora anche io mazzo nuovo quindi vediamo cosa riesco a fare allora stand by main ok desideri pagò costa costa ok ci si si ok vorrei fare normal si che carta è un attimo che la vedo poco link no che carta è non che la vedo poco ah è golden air ah ok link effetto golden air al cimitero si scarto e rievoco e sono locato in plunder patrol per il resto del torno link se tu non puoi andare allora che hai tirato che lo vedo cosa che è black beard praticamente dice che quick effect posso targetare un mostro che controllo evoco un plunder dall'extra con un attributo uguale a un mostro che tu hai o sul terreno o nel grave si e gli equipo il mostro che ho targettato a quel mostro e pesco una carta va bene allora allora famo così nel dubbio io e quanto c'è ad attacco e difesa? ah 1.6 gli attacco ok c'hai una settata facciamo no setto quattro si e passo do face set my face main face si questo qui dice praticamente dice tre cose dice prima cosa tutti i plunder guadagnano 500 per ogni carta plunder che ho qui nelle spelletrap e una volta per turno posso scartare una carta aggiungere un plunder e terzo effetto se è nel grave posso rimbalzare un plunder dalla zona spelletrap e la risetto ok ok l'attivo ok no attivi dinomiscius ok su di lei scarto vanno no vanno ok allora faccio normal si battle 1.6 1.6 1.6 1.6 ok 2.6 di valle 2.6 sì min 2 eeeh 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 basso ok nando sì demone sofferente mh mh cart in mano una sì mh mi sta bene cosa mischi allora che cerci misure i mostri eeeh golden air eeeh 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 io mando al cimitero mando al cimitero skarma ok siamo in hand skarma meada faccio questo ah ok aspetta fanno pensare eeeh ok eeeh eeeh alza metà anche tu sì ok pesco devi fare altro in hand no no vai setto eeeh passo emphase lui targetto lui attivi l'effetto coltoso land ok allora 2006 3600 4100 ok posso vedere il grave sì ciò vabbè skarma ok ok barbara effetto suo sì click effect evoca un plunder dall'extra deck con un attributo uguale e gli equipò lui stesso ok eccolo vado sì stand-by main metti in attacco battle picchio con 1000 scarma per di 1000 in battle effetto suo dice che scarto una carta plunder e targetto che controlli lo banno e posso searchare per una spell trap plunder search al mazzo finito sì sì esatto scarto e target va bene faccio hash ok pens effetto bluebeard quando viene mandato da mano o terreno al grave scarto una carta pesco una carta main 2 si puoi andare pesco tanto è l'unico modo sì per forza allora evo crash ok scarma si spacca passo in end sì attiva l'effetto di scarma devi qualcosa sì ancora no addoratura emphase mark targetto hash e la banno search prima ma hai bannato qualcosa no no niente hai fatto hash sì effetto whitebeard sì e avocado al mazzo un plunder ok io sono a 4100 sì ok perché 400 aspetta perché ho perso 2.6 all'inizio sì più mi avevi attaccato mi sembra no io ho attaccato sul settato no no ma mi ha attaccato un'altra cosa ma non so se mi pare no io c'ho 2.6 2.6 di una battle sola poi tu sei stato scarma io ho abitato con la nave su scarma non c'ho nient'altro io siamo 7000 io e te 5400 ti ho perso qualcosa no ti hai perso qualcosa sono sicurissimo ah il colpo solenne ah ok giusto non mi avevi considerato ah ok si 4400 rimedi ok tu hai il mostro specialmente è proprio questo si si ti fa bene effetto suo si questo qui dice che tutti i mostri demone guadagnano 500 gli altri mostri demone guadagnano 500 attacche difesa si pure i miei o se e che controllo io e se una volta per turno posso scartare un plunder ti banno una spellutrappe e search un mostro plunder e se c'è equipato un plunder diventa un effetto rapido ok e vado si riesco stand by main si battle battle 1.5 aspetta attivo tri trucco trappola ok ok e vabbè si attiva l'effetto di dinomisius al cimitero va bene tanto mando al cimitero mando un tt e set un tt ok poi entra dinomisius e attivo tributo terrenziale penso c'è c'è no morek si no non è vero lascio fare ok e se spacca e se spacca dinomisius viene bannato poi set un vai pesco allora tur si effetto effetto ash ash richiamo gospel voglio piangere è vero vabbè attacco booty lei diventa luce dice che ti targetto un mostro e dichiara un attributo e il tuo mostro diventa di quell'attributo poi posso prendere un plunder dal cimitero rimischiarlo nel mazzo evocarlo special ok e quindi faccio tur luce evoco lui va bene quanto c'ha? 1600 ah ok passo in end faccio lui si ah non in end e vado? si pesco stand by main effetto suo posso evocare lo targetta non mi pare di no no posso fare special un plunder dalla mano o scoperto nella zona spellotrap si evoco lui faccio booty lei diventa divino proprio per flexare e battle 1500 si 500 perdo 2600 2000 e 1600 e poi hai preso 500 cioè che no no 4 spento ero 4100 si più 1500 vai a 5 e 6 si più 2000 7600 7600 1600 ah ok ho perso allora infatti non capivo che stessi contando che ti si don queste qui allora questa la starto io ok abbiamo un accenno di side proprio per vedere come come la va ah vuoi che alzo si fa la metà anche io good luck parte 2 allora allora parto 1 2 3 4 e passo esco stand by si può giocare con ba 2 volte su 2 partendo così ti stupirà ma è una partenza forte si però diciamo che anche avere un dante in campo potrebbe essere utile aspetta allora si e banna e ho bannato si ah faccio gamma fammi pensare vai summon ok ah beh aspetta perchè la summon avviene a metà catena alza un po' come vuoi si si alzo le prime metà metà mazzo la metà pesco 2 nuova catena ok si allora fai lui ok penso effetto suo scarto un blunder che sarà questa carta si banno faccio col dato da la tua sinistra da la tua sinistra alla tua destra sono 1 4 5 6 ritiro l'effetto è su evocazione o no 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 è su cioè su dichiarazione ah ok mi faccio scarto lui e spacco la quarta alla tua sinistra questa si e in caso sergio un mostro blunder ok effetto whitebeard si evoca un blunder dal max fammi pensare tt si faccio normal link no aspetta fai la normal normal demon sofferente ha missato qui cioè volevo fare il mirage ma ci ho scordato che sono lockato nei blunder ok va bene lo stesso battle attacco con zero ok sotto due vai pesco vai in hand booty aspetta trappola normale eh si trappola continua però non posso usare l'effetto adesso vado risco steen by me si normal whitebeard si link whitebeard ok dinomisius si target si c'è in effetto ok si si devo scartare si prima risolve questo poi ti scarti si ci sono ascia al grave vero si e scartapure e devo evocare di whitebeard come alzo metà vado in battle si 2-5 ok puoi andare allora pesco passo pesco stand by min si no mirage non è vero perché non è entrato normal non è vero attivo questa vuole usare l'effetto si ti sei 5-5 no 2-5 ah vabbè si 5-5 rimanenti battle si allora lui è 2-5 più 1000 3-5 e lui è 3000 ah ok e va bene ragazzi oggi non è andata vabbè domani ci si riprova altro match vediamo come va e poi dai c'è l'excavaganza ti rifarai lì si ci si spera cioè l'obiettivo sarebbe vincerlo sarebbe bellissimo ma anche portare a casa un buon result non sarebbe male quindi vabbè ragazzi state mesi e noi ci vediamo domani con un altro match ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti